Una signora single si rega al supermarket, fa la sua a spesa, dopodiché si avvicina alla cassa per farsi fare il conto, inizia a tirar fuori tutti i prodotti che ha acquistato, quindi tira fuori un pacco di cotton fioc, due birre, un pacco di pasta, una crema per il viso, un pacco di assorbenti e gli si accota dietro un ubriacone che la guarda e gli fa Scommetto che sei single! E lei pensa tra se e se, ma quale sarà il prodotto che gli ha fatto capire che sono single a questo signore? Allora gli dice, sì signore, sono single, ma come l'ha capito? E sto ubriacone, perché sei brutta!